Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Anche il giorno di feragosto la mensa di Padre Guido è attivissima per aiutare i bisognosi del capoluogo. Sono decine e decine i poveri che attendono il loro turno per ricevere un pasto dalla cucina della mensa di Padre Guido. Sono felici di ricevere la visita delle telecamere di Vera TV, ma ci chiedono con cortesia di non farsi riprendere in volto. Suor Settimia, assieme ad una decina di volontari, è qui dal mattino presto, come d'altra parte accade 365 giorni all'anno per gestire l'opera missionaria francescana. Anche il giorno di feragosto la mensa di poveri è attivissima. Noi lavoriamo 365 giorni l'anno, quindi domeniche, Natale, feragosto sempre. Quanta gente viene abitualmente? Ultimamente sono ancora aumentati, perché purtroppo da due anni a questa parte stanno aumentando più o meno continuamente. La mensa di Padre Guido è collocata in pieno centro ad Ancona, a pochi metri dal corso principale. Ogni giorno si mettono in fila per ricevere un pasto d'asporto almeno 170 persone, tra cui parecchi italiani. Allora, i stranieri sono giovani in genere, quindi anche 20-25 anni, anche sotto i 20 anni qualche volta. Invece gli italiani, diciamo, in più sono la mezza età, dai 40-50-30, ma ci sono anche qualche anziano che è aumentato, quindi anche che si trovano in difficoltà, diciamo anche 60-70 anni ci sono. La maggior parte degli stranieri sono pakistani e somali. Tra loro c'era anche il 23enne travolto e ucciso pochi giorni fa da un'autocisterna agli archi. Sì, faceva parte del gruppo dei somali e veniva quasi sempre, sì. E poi ce l'ha detto il giorno stesso un amico, perché la comunità dei somali tra l'altro è molto compatta, quindi subito mi ha detto, è successo questo, è morto, come è morto? Dice, sì, sì, adesso, adesso, quindi ce l'ha detto proprio quasi subito, insomma. Padre Guido Costantini è morto ad Ancona nel 1967 e questa mensa è un esempio del suo impegno. E i poveri aspettano correttamente qui fuori? Sì, aspettano dalla mattina presto alcuni, perché sono tanti, quindi per prendere il numero, insomma, per prenotarsi, ecco, sono tanti.